L'altra settimana, mentre Matteo Renzi preparava l'incontro con la Merkel e le portava in dono la maglietta del centravanti tedesco della Fiorentina, Mario Gomez, in Germania veniva condannato per frode fiscale un campionissimo, campione del mondo, Uli Önes, bandiera del Bayern di Monaco, tre scudetti da giocatore, diciotto da presidente, molto amico della Merkel. Al processo, come già era capitato ad altri campioni dello sport tedesco, tipo i tennisti Boris Becker e sua moglie Steffi Graf per i guai del padre, Önes si è beccato tre anni e mezzo in primo grado. Non ha fatto appello, perché ha detto non sarebbe in linea con la mia idea di decenza, di condotta e di responsabilità personale. Si è scusato piangendo davanti alla stampa. Il CDA del Bayern stava per chiedere le dimissioni, ma lui ha anticipato tutti e si è ritirato da ogni carica, anche perché è difficile fare il presidente di una squadra di calcio dalla galera. Infatti Önes non andrà ai servizi sociali e nemmeno ai domiciliari, ma proprio in carcere. In Germania si usa così. Pensate se Önes fosse italiano. Che cosa sarebbe successo? Avrebbe subito gridato a un complotto del Borussia o dell'Everkusen, avrebbe invocato la presunzione di innocenza, si sarebbe imbullonato alla poltrona, avrebbe fatto ricorso in appello, poi in Cassazione, poi alle corti di Strasburgo e Lussemburgo, poi avrebbe chiesto la revisione del processo a Brescia, il tutto in attesa della prescrizione o dell'indulto, del condono, dell'amnistia o dello scudo fiscale. E naturalmente si sarebbe buttato in politica, ammesso che non ci fosse già entrato in precedenza. Ecco, se la Merkel l'avesse voluto infierire, avrebbe potuto ricambiare la maglietta di Gomez con la maglietta di Önes regalandola a Renzi per ricordarci uno dei tanti spread contro i quali non facciamo assolutamente nulla. Infatti la lotta all'evasione fiscale nelle famose slide di Renzi non è nemmeno citata, sfugge proprio ai radar, non è pervenuta. Intanto mentre Önes piangeva e preparava il pigiama e lo spazzolino da denti per andare in galera, Berlusconi rideva a crepapelle e annunciava a Saro Lieto di essere capolista alle elezioni europee in tutte e cinque le circoscrizioni. Cioè lui è molto lieto e pazienza se è stato condannato non a tre e mezzo ma a quattro anni per una frode fiscale non di 27 ma di 360 milioni, quasi tutti i prescritti a parte otto miracolosamente scampati alla prescrizione. Adesso attende i servizi sociali o i domiciliari perché da noi un evasore non va in galera neanche se insiste, nemmeno se prende a calci la porta del carcere riesce a entrarci, viene respinto dalle leggi italiane che di solito sono scritte per gli evasori e molto spesso anche proprio dagli evasori o dai loro avvocati e commercialisti. Però Renzi ha annunciato le riforme del fisco e della giustizia per i mesi di maggio e di giugno, si spera del 2014. Ecco non ha precisato ma si spera. Volendo potrebbe ispirarsi a un librettino molto interessante che è appena uscito, è l'ultimo rapporto dell'Institut de Criminologie et Droits Penales curato da due docenti dell'Università di Lausanna sulle popolazioni carcerarie dell'Europa e dei dintorni relative al 2011. Sapete quanti sono nelle nostre affollatissime prigioni i detenuti per crimini economici e fiscali? 156. Sapete adesso quanti sono in Germania? 8601, 55 volte tanti. Molti più di quelli detenuti in Germania per rapina e per atti di violenza, quasi altrettanti di quelli per traffico di droga e di spaccio. Eppure la Germania non ha la nostra evasione fiscale, anzi proprio per questo non ha la nostra evasione fiscale perché lì gli evasori li mette dentro. Ma non c'è solo la Germania, la media europea dei colletti bianchi in carcere è 10 volte superiore alla nostra. Il 4,1% di detenuti sono lì per reati finanziari. Noi abbiamo detto 0,4. Nessun paese ne ha meno di noi. I colletti bianchi incarcerati in Italia sono un sesto degli olandesi, un decimo degli svedesi, degli inglesi e dei norvegesi, un undicesimo dei finlandesi, un quindicesimo degli spagnoli e un ventiduesimo dei turchi. Ci umiliano perfino i paradisi fiscali come Monte Carlo e Liechtenstein che hanno rispettivamente il 23 e il 38% di detenuti i colletti bianchi. Adesso Renzi, come già Berlusconi e Monti, eletta e a caccia di coperture finanziarie per le sue mirabolanti promesse. Le forbici di Cottarelli si stanno rivelando di carta stagnola. Perché non chiedere alla Merkel come fare? Renzi potrebbe farsi raccontare dalla cancelliera la storia di Klaus Zunwinkel, il top manager che ha privatizzato le poste tedesche e ne ha fatto un colosso mondiale. Era accusato nel 2008 di evasione aggravata. Sapete cosa gli è successo? La polizia tributaria tedesca, che fa molta paura, ha cinto d'assedio il suo villone a Colonia, lo ha aspettato al varco all'alba verso le 6 del mattino e l'ha portato via in manette come se fosse un boss mafioso. Nello stesso anno si scoprì che un dipendente della banca del Liechtenstein aveva una lista con tutti i clienti, erano 4.500 nomi, in gran parte tedeschi. Cosa ha fatto il governo della Merkel? Si è comprata quella lista pagando la cara 4 milioni e mezzo ed è andata a stanare uno per uno quegli evasori. Pensate alla fine che avrebbe fatto quel poveretto in Italia. L'avrebbero trovato impiccato a una piantina di fragole con un mare di carte nel caminetto che bruciavano. Si dirà sono pazzi questi tedeschi e allora andiamo a vedere gli inglesi, se ci piacciono di più. L'altro giorno Massimo Cellino, presidente del Cagliari Calcio, appena uscito di galera per peculato e falso per lo scandalo dello stadio East Arenas, ha avuto una pensata, ha detto mi compro la squadra del Leeds. Evidentemente è debole in geografia e non sa che Leeds è nello Yorkshire, cioè in Inghilterra, lui pensava fosse in Italia. Infatti c'è rimasto malissimo quando la Football League, che è la Federcalcio inglese, gli ha detto no, non puoi prenderti il Leeds perché hai una condanna in primo grado in Italia a una multa di 600 mila euro per averne evasi 400 mila di imposte, non per fatti legati allo sport, per uno yacht che lui si era comprato in America e aveva portato in Sardegna. In Italia si direbbe primo grado, condanna non definitiva, dunque innocente. In Inghilterra vanno per le spicce e dicono dunque disonesto, non lo vogliamo, sono pazzi anche questi inglesi, ma non solo le autorità, pur i tifosi. Pensate che gli ultradellizzi per protestare contro Cellino e che non lo volevano proprio come Presidente si sono presentati allo stadio travestiti addirittura da mafiosi e ce l'hanno rimpatriato col foglio di via. Lui qua si è sempre trovato bene, meglio non avventurarsi oltre la cinta daziaria. In Italia ci sono addirittura magistrati come il procuratore generale di Milano, Santa Maria Amato, che l'altro giorno ha chiesto di anullare in appello la condanna a Dolce e Gabbana, che in primo grado si erano beccati 20 mesi per avere evaso un miliardo, portando certe loro società in Lussemburgo e allocandole in monolocali senza nemmeno un dipendente. Niente, per questo magistrato vanno assolti perché in fondo hanno solo pensato in grande, così ha detto. Sono dei creativi, una condanna andrebbe contro il buon senso e la logica e pazienza se hanno guadagnato palate di soldi a spese dei contribuenti onesti. Insomma, sono ragazzi, ecco questa è la sostanza. E poi ha aggiunto pure la FIA di Marchionne è scappata in Olanda, il così fan tutte di Mozart applicato al codice penale. Ha detto pure questo magistrato meraviglioso che una condanna danneggenebbe il Made in Italy anche se momentaneamente trasferito in Lussemburgo. Intanto dai dati del fisco risulta che anche quest'anno in Italia i lavoratori dipendenti dichiarano molto di più dei loro padroni, tant'è che uno dice ma potranno licenziarli? No, no, quello non lo possono fare. Non siamo un paese meraviglioso, adesso è arrivato Obama e speriamo che Renzi gli abbia chiesto come funziona in America. Perché il giudice Pier Camillo Davigo nel suo libro sulla corruzione racconta la sua visita al carcere di Butner nel North Carolina dove hanno rinchiuso fra gli altri, Bernie Madoff e il presidente del Nasdaq. Davigo ricorda quella visita con un certo sconcerto perché dice tutti i detenuti erano in uniforme e il lavoro era obbligatorio. Ho domandato al direttore sono serial killer, sono terroristi, sono stupratori, rapinatori? Dice no, mi ha risposto per metà sono dentro per traffico di stupefacenti, per l'altra metà sono colletti bianchi, prevalentemente evasori fiscali. Vista la meraviglia sul volto di Davigo ho detto ma perché si stupisce? Hanno mentito al popolo americano e se superano questa linea gialla tracciata in terra spariamo a vista. Negli Stati Uniti in sette anni fra il 2000 e 2007 gli evasori finiti dentro sono stati 11.691 solo per reati fiscali federali, poi ci sono quelli per i reati fiscali statali che vengono arrestati stato per stato. Sono pazzi questi americani, verrebbe da dire. Jeff Skilling, amministratore della Enron e primo finanziatore dell'allora presidente George W. Bush, si è beccato 24 anni per bancarotta e sta marcendo nel penitenziario di Wasey nel Minnesota con il suo bel pigiamino arancione che indosserà fino al 2028. Ha violato la legge certamente ma soprattutto ha sbagliato paese. In Italia avrebbe solo l'imbarazzo della scelta o buttarsi in politica o dirigere un'impresa o una banca oppure fare il presidente di una squadra di calcio che tanto è in buona compagnia. Noi non siamo pazzi come tutto il resto del mondo, noi gli evasori non li chiamiamo neanche ladri, al massimo furbetti, così li chiamano i giornali e siamo pieni di politici che adesso dicono siamo tutti Obama, siamo tutti americani, andiamo a sbattere i pugni sul tavolo dell'Europa ma quello capace di sbattere in galera gli evasori, quello deve ancora nascere.